Buongiorno, sono Claudio Rinna, chirurgo maxillofacciale, responsabile dell'unità operativa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Belcolle di Viterbo. Oggi sono qui, sono stato invitato a questa giornata, molto interessante dal punto di vista scientifico, molto interessante anche dal punto di vista dei contenuti delle relazioni. Ho partecipato in qualità di moderatore nella sessione che riguardava le asimmetrie facciali e sono stato anche presente nella tavola rotonda che si è fatta al termine delle relazioni relative alle disegnazie ed asimmetrie. Mi auguro che questo tipo di incontri si facciano sempre più spesso perché sono molto ricchi di contenuti oggi abbiamo avuto tra l'altro la fortuna di avere con noi il professor Giorgio Giannetti, padre della scuola di chirurgia maxillofacciale romana, che ha potuto dare il suo contributo ed essere stato con noi è stato veramente un grande onore. Grazie.